Buonasera a tutti amici milanisti, ieri una vittoria molto importante quella contro il Sassuolo, ci portiamo a casa tre punti importantissimi contro una squadra che sta giocando veramente bene e secondo me non era una partita facile dopo soprattutto le partite contro il Parma e il Genoa le riportavo una partita che poteva essere difficile nonostante questo il Milan si è dimostrato comunque nonostante tutti gli infortunati che abbiamo ieri anche Rebic per il problema al piede, vabbè, una squadra con tanta determinazione che nonostante appunto questo momento di sfiga se così possiamo chiamarla si è dimostrando di avere voglia, grinta e carattere gol spettacolare di Leao dopo sei secondi che è uno schema studiato veramente in maniera spettacolare subito dopo ci hanno purtroppo annullato il gol di Akan per fuorigioco che fuorigioco calcolato col millimetro che, vabbè, in ogni caso il Milan è stato bravo a raddoppiare i console makers una buona partita, tre punti appunto meritati, portati a casa, cosa dire, l'unica cosa è che non concepisco il giallo che è stato dato a Chessy perché era inesistente, oltretutto che si è diffidato salterà la Lazio, salterà la Lazio anche tonali, quindi come centrocampo siamo un po' messi malino detto questo, sempre testa alta, sempre forza Milan, io vi mando un bacione